Vittorio, ti faccio vedere un'immagine celebre ormai, l'orsa più famosa d'Italia, JJ4, che è stata catturata e verrà condannata a morte. Allora, il TAR ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa e deciderà l'11 di maggio. Però il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha voglia di abbattere l'orso. Nonostante i genitori del povero runner hanno detto che l'abbattimento dell'orso non restituirà a loro il figlio ed è una vendetta senza senso. Cosa pensi del presidente Maurizio Fugatti che invece la vuole abbattere? Che io abbatterei volentieri lui. Non ci hai girato troppo intorno. No, per un motivo tecnico è che questi trentini sono andati a comprare degli orsi in Slovenia perché volevano ripopolare le loro montagne. Era anche un'aspirazione, diciamo così, legittima. E poi si sono accorti che però gli orsi scopano e fanno degli ossetti. E ne hanno fatti talmente tanti che sono diventati più di cento. Allora io trovo che sia da imbecilli andare a comprare gli orsi e poi incazzarsi con gli orsi perché fanno gli orsi. Intendiamoci, io non so come è avvenuto l'incidente, però trattarsi di un incidente. Fra l'altro ho potuto capire, leggendo un po' di statistiche, che negli ultimi 20 o 25 anni i cacciatori hanno steso 340 persone. Le hanno ammazzate per sbaglio, certo le hanno fucilate apposta. Mentre in Trentino l'orso ha fatto solo una vittima. Allora dobbiamo abbattere i cacciatori, applicando una par condicio. E almeno io non riesco a capire come si possa ragionare in questo. E poi a me gli orsi sono molto simpatici. Ma a tutti gli italiani sono simpatici, me ne sono accorti in questi giorni. Ma so anche perché, perché tutti noi da piccolini abbiamo avuto in dono un orsacchiotto. Ci siamo innamorati del nostro orsacchiotto e quando vediamo anche quel gigante lì non ci fa paura, ci fa tenerezza. Quindi bisogna capire anche la psicologia della gente. Quindi quello che sta pensando il nostro Fugazza si chiama Fugazzi. Fugatti. Fugazzi mi sembra una manifestazione alla quintessenza dell'imbecillità. Adesso non vorrei offenderlo, ma diciamo il suo modo di agire mi sembra veramente folle.